E' la prima ondata di calore dell'estate, per questo l'effetto è risultato amplificato sulla nostra salute, ma già da domani le temperature dovrebbero tornare nella media. Il primato di città più calda di queste ore è andato a Modena con oltre 40 gradi, seguita da Foggia con 39, tutte città che conservano anche oggi il bollino rosso. Bollino arancione invece per Milano, Venezia, Pescara, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Campobasso. Nel capoluogo di regione del Molise, piazze in gran parte vuote nelle ore più calde della giornata, l'ombra degli alberi è un rifugio sicuro dalla calura, ma i rimedi per affrontare l'AFA sono tanti. Ogni tanto ci alziamo, andiamo a fare una bevuta d'acqua e ci rinfresciamo. Lei come combatte il caldo? Combatto il caldo? Bevendo e stando a casa chiusi, perché le alternative non ne vedo. Comunque diciamo Campobasso ancora ci salviamo, rispetto a città come Roma, Firenze, Bologna, Milano. Perché caldo caldo, però insomma c'è sempre un buon venticello che ogni tanto soffia e viene a salvarci. Stiamo un po' a casa, un po' all'ombra e passiamo la giornata. Un consiglio per combattere il caldo? Beh, prima cosa di stare all'ombra, cioè di non uscire nelle ore più calde e bere molta acqua e mangiare frutta. Io provengo da vicino Padova, per cui qui anzi, diciamo che è fresco a parità di calore, perché lì è molto umido, invece qui c'è un clima secco, asciutto, che ci permette di resistere anche a temperature elevate. Vediamo anche dei bambini qui, un consiglio per esempio per i bambini? Eh, anche loro, beh, non farli uscire nel cuore del caldo, quindi prima di mezzogiorno e appena arriva la forte calura, insomma, rientrare a casa e tenerli abbastanza scoperti, farli bere molto ed evitare, ecco, il caldo di mezzogiorno. Il caldo a Foso tornerà a farsi sentire invece nel fine settimana, ma sarà meno intenso di quello degli ultimi giorni e colpirà soprattutto il centro nord.